Buonasera a tutte amiche, buonasera a tutti amici di Rossini TV, eccoci ancora una volta presso la struttura di Fisioradi di Pesano per una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, esattamente la ventunesima, nostro ospite o meglio noi siamo ospiti di Fisioradi e intervisteremo il dottor Luca Brandi. Il dottor Luca Brandi, come avete potuto immaginare dall'apparecchiatura con la quale ho iniziato questa presentazione, è un oculista. La vista è uno dei sensi più importanti per l'essere umano, per tutti gli esseri viventi. Il dottor Luca Brandi ci insegnerà, ci darà tanti consigli per prevenire tante patologie della vista, prima farà tutte la maculopatia degenerativa. Eccoci con il dottor Luca Brandi che è specialista in oculistica e oftalmologia, diciamo per semplificare il concetto oculista. Dottore? Io sono ormai vent'anni che mi occupo di occhi, è qualcosa che mi ha sempre affascinato fin dall'inizio, è stato un amore diciamo che ho nutrito fin dai primi anni dell'università, che sono riuscito a avere la fortuna di... Mi passi la battuta, un amore a prima vista. Un amore a prima vista. Dottore, siamo in una struttura che è molto, davvero, la definiamo multidisciplinare, Fisioradi ospita tantissimi suoi colleghi medici che occupano proprio l'oscibile della materia della medicina. Partiamo da quella che è la riabilitazione per arrivare a tutto ciò che poi si può affrontare con la salute. Ecco, a parte le battute, credo proprio di poter dire che la vista, tenere sotto controllo ciò che vediamo con i nostri occhi è sempre molto importante. Quindi l'importanza generale di una visita oculistica è basilare per chiunque di noi. Sì, certo. Diciamo che fino ad alcuni anni fa, per molte persone era un vanto, non aver mai visto un medico nella vita e sostanzialmente pensare a fare la prevenzione, eccetera, era una cosa che era poco sentita. Invece adesso fare prevenzione, riuscire a fare degli screening, riuscire a tenere sotto controllo, a diagnosticare precocemente delle malattie, tenerle sotto controllo o essere sicuri di avere praticamente un buono stato di salute dei propri occhi, così come di altri aspetti, di stretti organi del corpo, insomma è una cosa che è fondamentale. Esatto, e non a caso noi oggi centreremo un pochino l'attenzione su una patologia importante che è la degenerazione maculare, che è una patologia che si manifesta sicuramente con l'età, ma non solo. Di cosa si tratta esattamente? Sì, la degenerazione maculare è una malattia che è sempre più diffusa oggi, proprio per l'aumento dell'età media e per tutta una serie di fattori e stili di vita, che è il fumo, l'assunzione di una dieta sempre molto ipercalorica, con molti zuccheri, molti grassi, eccetera, che facilita sicuramente l'isoggetto di queste malattie. È una malattia che essenzialmente è un invecchiamento della retina. La retina è la pellicola della macchina fotografica dell'occhio, è una sottile membrana di tessuto nervoso che è delicatissima e in particolare la parte centrale della retina che si chiama macula, che è quella che serve sostanzialmente per fissare le immagini, per raccogliere i dettagli delle immagini, per vedere i colori, è estremamente delicata e può essere soggetta ad un invecchiamento anche molto precoce, che cosa che uno magari non pensa e anche perché è lungamente asintomatica come malattia per tanti anni. Esatto, e poi a quali conseguenze porta? Cioè, per esempio, com'è che ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va? Purtroppo spesso non ce ne accorgiamo, nel senso che a volte colpisce prima un occhio dell'altro e molto spesso con entrambi gli occhi noi non ci rendiamo conto di avere un'alterazione dell'immagine che a volte può essere veramente minima, è solamente una visita oculistica e comunque degli esami approfonditi riescono a mettere in evidenza queste alterazioni in modo anche precoce. Quindi dottore, anche se ha detto che magari capita di non accorgersi di avere questo problema, però in realtà dei piccoli sintomi che ci fungono da campanello d'allarme esistono. Allora, la retina è un tessuto che ha un metabolismo veramente molto veloce e ricorda un motore di Formula 1, tant'è vero che praticamente consuma più ossigeno per grammo di tessuto di tutto il resto del nostro organismo. Questo comporta anche un'enorme delicatezza e quando il tessuto con l'andare degli anni incomincia a perdere alcuni equilibri, alcuni sistemi di regolazione, incominciano a manifestarsi una serie di alterazioni prima anatomiche nella retina ma poi anche comunque delle alterazioni funzionali. Quindi uno può incominciare a vedere immagini leggermente distorte, può perdere la nitidezza e il contrasto dell'immagine. Molto spesso però questa malattia risulta sintomatica perché guardando con entrambi gli occhi contemporaneamente spesso queste sottilissime variazioni non vengono colte dal paziente. Non si notano. E poi una volta che viene diagnosticata però i trattamenti esistono. Esistono dei trattamenti che anzi più la diagnosi è precoce più i trattamenti sono efficaci. Questi trattamenti sono essenzialmente da una parte dei trattamenti che servono a proteggere la retina da un ulteriore invecchiamento, comunque da un peggioramento dei fenomeni degenerativi e questo significa essenzialmente nel modificare lo stile di vita, quindi avere una dieta meno ipercalorica, assumere meno grassi, meno zuccheri, grassi soprattutto di origine animale e aumentare l'apporto di antiossidanti, di vitamine e soprattutto attraverso frutta e verdura, abolire il fumo di sigaretta, fare un'attività aerobica abbastanza continuativa. Questo porta già di per sé a modificare negli anni la storia naturale della malattia. Poi nei casi più avanzati a quel punto bisogna ricorrere dei farmaci da una parte degli integratori ad alto dosaggio che possono rallentare questi fenomeni degenerativi, dall'altra quando la malattia si complica con dei fenomeni essudativi, cioè si formano proprio dei vasi al centro della retina, si possono fare delle terapie iniettive intravitreali, cioè delle punture che vengono fatte nell'occhio sostanzialmente per bloccare questa patologia. Ha già detto tante cose anche a riguardo alla prevenzione, ciò che serve per guarire e per curare molto probabilmente serve anche a prevenire. Sì certamente, come dicevo proteggere gli occhi attraverso un adeguato stile di vita, quindi ad esempio nel discorso della dieta, ma così anche la protezione dalla luce solare, a volte anche dalla luce blu degli schermi elettronici, quindi cellulari, tablet, computer che possono effettivamente contribuire in chi è predisposto al deterioramento e peggioramento della situazione clinica. Una domanda che è più una curiosità dottore, ma è vero che stare tanti minuti, tante ore attaccati al cellulare la sera prima di dormire dà fastidio alla vista? In realtà no, la stanca, però fondamentalmente quello che può essere pericoloso è per il paziente che veramente ha una forte predisposizione per questi fenomeni di invecchiamento della retina, perché si è visto che questa luce blu, che è quella che essenzialmente viene emessa dagli schermi, ha un effetto deleterio ma nel lunghissimo termine. Quindi i rischi sono soprattutto per un abuso di questa cosa negli anni, cosa che in parte avviene, perché spesso si somma l'esposizione dei vari apparecchi durante la giornata senza che ce ne accorgiamo, perché passiamo dal cellulare al tablet alla televisione e negli anni questo può essere appunto deleterio, però stiamo parlando soprattutto di quei pazienti che hanno una maggiore suscettibilità, quindi che hanno magari una predisposizione genetica nello sviluppare questa malattia. Dottore, grazie, è stato chiarissimo, molto molto interessante davvero perché ci ha aperto un mondo, anche qui me lo faccia dire, ci ha fatto vedere cose che sono molto importanti per tutti noi. Dottore, davvero grazie. È stato un piacere, vi saluto, grazie a voi. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.